Alice Campello ha condiviso sui social una dolcissima dedica in occasione del compleanno dei suoi gemellini. Le foto postate sono un vero colpo al cuore. Alice è tra le influencer più seguite dei social. La sua storia d'amore con Alvaro Morata continua a far sognare i fan. I due si sono conosciuti su Instagram, e da quel momento non si sono più separati. Lei, imprenditrice di grande successo, lui un calciatore affermato. Un matrimonio da sogno e la nascita di ben quattro figli, tre maschietti e una splendida femminuccia. Bella è arrivata nella loro vita come un regalo inaspettato, finalmente dopo tre fratellini, una bimba ha colorato di rosa la loro famiglia. Unione e gioco di squadra li rendono unitissimi. Alice Campello fa una dedica ai gemelli. Le foto postate sono dolcissime. Alice e Alvaro sono la dimostrazione lampante di quanto, amore e grande affiatamento, rappresentino due requisiti fondamentali per mantenere in piedi una relazione. Entrambi impegnatissimi con il lavoro, non smettono nemmeno un secondo di sostenersi in ogni evento importante. Morata è stato tra i protagonisti degli europei e la sua meravigliosa moglie, non ha potuto fare a meno che sostenerlo in ogni partita. Insieme ai figli, hanno regalato al pubblico momenti davvero emozionanti. Oggi i due gemellini, Alessandro e Leonardo, festeggiano il compleanno e mamma Alice, ha dedicato ad entrambi parole tenerissime. Scatti dolcissimi insieme tra cui la prima foto che li ritrae nei loro primi giorni di vita. Tra le sue parole, dal momento in cui vi ho visto è cambiato qualcosa. Il mio desiderio più grande si era realizzato, e io non sapevo se mi sentivo all'altezza. Ho fatto dal primo giorno il possibile per rendervi oroliosi di me. Siete il mio regalo più grande. Mamma Alice è pazza d'amore per i suoi bimbi, Alessandro e Leonardo insieme a Edoardo e Bella, sono una gioia immensa. Dopo un anno, tra impegni e grandi sacrifici, la famiglia Morata si sta dedicando qualche giorno di relax nel mare della Sardegna. Quali nuovi progetti li vedranno protagonisti da settembre? Di sicuro Alvaro tornerà sui campi di calcio mentre Alice proseguirà con il suo lavoro da imprenditrice. Sono tantissime le ragazze che, ammirano sui social, tutti i suoi consigli e le scelte outfit. Lei, insieme a Chiara Ferragni, sono tra le influencer più famose e stimate del web Per molte, rappresentano proprio un'importantissima fonte di ispirazione. Grazie a loro, tante giovani ragazze si sono cimenticate in questo mondo, provando in tutti i modi a diventare note tra foto espulsorizzate. Alice si divide tra i suoi doveri di moglie, madre e donna in carriera. Tutto questo, è compensato dall'amore dei suoi figli e del marito.